Ciao a tutti e bentrovati da Filippo Giannini di tradingfacile.net società che idea, sviluppa e diffonde trading system automatici per i mercati finanziari. Oggi andremo ad analizzare il cross euro-dollaro e in particolare cercheremo di rispondere alla domanda su cosa sia lecito attendersi dopo i deludenti dati macro di venerdì da parte degli Stati Uniti e il conseguente forte movimento dell'euro che si è attestato in chiusura a quota 1.1360 nei confronti del dollaro. Allora innanzitutto possiamo andare ad osservare come il prezzo stia attualmente muovendosi all'interno di un canale generato dalla trendline sulla quale il prezzo ha trovato supporto durante la prima reazione dopo il minimo di marzo 2015 ritmo che si è dimostrato insostenibile causando quindi una seconda caduta dei prezzi fino ad attestarsi ad area 1.6 da qui successivamente diciamo il prezzo vediamo come si è ripartito anche qui trovando supporto su una trendline parallela alla precedente quindi è interessante notare come i livelli che prima costituivano supporto dopo la rottura ora sono diventati dei punti di resistenza quindi diciamo ecco dopo il forte movimento di venerdì è lecito a questo punto attendersi una ulteriore risalita del prezzo che diciamo potrebbe tranquillamente ritestare i livelli dei massimi attuali di breve termine fino a quota 1.16.9 quindi andando ora ad osservare il time frame a 30 minuti vediamo come sia possibile approcciare alla gestione di eventuali posizioni già aperte in seguito al break di venerdì oppure diciamo come andare a valutare l'apertura di eventuali nuove posizioni allora innanzitutto vediamo come il livello di 1.12.30 diciamo era un livello che in passato era stato di supporto prima della ripartenza del prezzo e anche in questo caso la rottura diciamo di questo livello ha rappresentato quindi l'innesco per il raggiungimento da parte del cambio di livelli appena citati quindi era interessante notare anche qui come si era già avuto in qualche modo un segnale dato che si era stata osservata la rottura della precedente trendline ribassista con un ritest dei livelli di rottura e quindi poi la conseguente esplosione del prezzo ora principalmente quindi come già detto ci orientiamo verso l'apertura di posizioni long prima di un'eventuale ripartenza ci attendiamo un rintracciamento quindi eventualmente qualora fossimo già entrati l'idea è quella di prendere profitto almeno in parte sulla posizione e aspettare i prossimi rintracciamenti prima di riprendere posizioni, riaprire posizioni al rialzo dove li attendiamo questi rintracciamenti? innanzitutto in area 1.13.30 che sarebbe un punto ideale qualora il mercato decidesse di accelerare velocemente molto più verosimilmente ci attendiamo di trovare supporto in area 1.12.80 e in seconda battuta qualora il prezzo scivolasse diciamo più in basso proprio al livello di 1.13, 1.12.30 ossia il punto diciamo che ha rappresentato il break al rialzo se noi andiamo infatti ad analizzare i livelli di fibonacci in base al movimento osservato troviamo proprio il livello di 1.12.80 in corrispondenza del rintracciamento del 38% del movimento mentre troviamo il livello di 1.12.30 proprio in corrispondenza del livello di 61.8% di fibonacci quindi diciamo questi sono i principali punti dove ci aspettiamo che il prezzo trovi supporto per l'apertura di posizioni long con target che possiamo identificare nei precedenti livelli di resistenza ovvero 1.14.20 1.14.80 1.15.20 ed in estensione 1.15.90 chiudiamo ricordandovi come al solito che le strategie illustrate nei nostri video sono le medesime che implementiamo nei trading system trading system che potete trovare su www.tradingfacile.net se volete potete scriverci a infochiocciola tradingfacile.net un saluto da Filippo Giannini e buona settimana di trading a tutti